Una bella iniziativa, quella della Comune di Bianchi che ho colto propositivamente perché un bicentenario nei nostri piccoli comuni è una ricorrenza troppo importante, infatti voglio applaudire l'iniziativa della collega di Pasquale Taverna perché stamattina in un pieno clima autunnale però ben propositivo perché deve essere di buon auspicio in quanto i nostri piccoli comuni che sono piccole realtà dove affannano quotidianamente per gestire veramente non solo quelle che sono le problematiche quotidiane ma quest'anno ancora di più con l'emergenza Covid. Io dico che siamo sempre piccoli comuni in frontiera, sempre pronti ad affrontare qualunque tipo di responsabilità e la solidarietà ma soprattutto poter condividere questo tipo di iniziative per noi diventa un momento, un appuntamento al quale non si può mangare ma soprattutto io dico condividere quella che è l'iniziativa di una piccola realtà che appartiene alle aree interne del nostro savuto va solo applaudita e condivisa. In bocca al lupo alla comunità di Bianchi.